Ti piace un colpo mi hai fatto arrivare fin da qua su E voglio vedere come Dio comanda Ma te sei sicuro che qui? Ma te pare che sto spettacolo dei mobianconetani di sto Stinga lo fanno qui alla Scala del Milano? Ma te sei rincoglionito del tutto? Cioè scommettiamo una mangiata di pesce al mandracchio? I mobianconetani al 13 novembre al Teatro Panetodo ancora! Pitalante il culo A presto Per il cuore Grazie a tutti.